L'amore spesso è confusione, indecisione. E anche da adulti può mancare il coraggio. È molto bella, Angie. Molte grazie. Devo riaverlo. A tutti i costi. Ecco cosa devo fare. Devo essere come Maria. Si può respirare amore? Alimentarsi di amore? Vestirsi di amore? Anche le alleanze strategiche possono avere dei risvolti inaspettati. Quando l'amore fa male, l'amicizia consola. Se per caso hai qualche problema, beh, dovrai imparare a metterlo da parte. E se sei gelosa, cerca almeno di non dimostrarlo davanti ai ragazzi. Io sarei gelosa. Tu mi stai dicendo che sono gelosa. Di chi dovrei essere gelosa? Finché storie mai dimenticate non complicano le cose. E tu? Che ne pensi? Vai nella community di Violetta e raccontaci cosa succederà, secondo te, nella nuova stagione. Potresti vedere il tuo commento sull'episodio di Violetta. Tutto ricomincia con la nuova stagione di Violetta. Prossimamente sulla Disney Channel.